Bene, signori e signori, buongiorno, buon pomeriggio. Gli sposi sono sopra la scala e fra qualche istante faranno il loro ingresso in sala. Vi preghiamo di riceverli con un lungo e caloroso applauso che li accompagni fino al loro tavolo. Magari ci alziamo in piedi sul posto per accoglierli nel migliore dei modi. E loro accogliamo con un forte applauso gli sposi Rosa Maria e Luigi. Forte, ancora più forte l'applauso. E magari li accompagniamo anche al ritmo di musica con le mani, così. Tutte le mani per i nostri sposi. Che dite ora che sono seduti, lo facciamo un altro applauso? Grazie a tutti. Ancora un forte applauso per Rosa Maria e Luigi per questo ingresso spettacolare qui in questa fantastica struttura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.